La scrittura nella lontana isola di Pasqua potrebbe essere stata già praticata prima dell'arrivo degli europei. La scoperta arriva dall'Università di Bologna. L'inviato Simone Turchetti. Queste quattro tavolette di legno nascondono un segreto appena svelato da uno studio dell'Università di Bologna. Sono conservate a Roma in un piccolo museo della Congregazione dei Sacri Cuori di Gesù e Maria e vengono da Rapanui, l'isola di Pasqua, uno dei luoghi più remoti e isolati del pianeta. Recano incisioni in rongo-rongo un sistema di scrittura ancora indecifrato. Fino a poco tempo fa si pensava che questa scrittura fosse stata inventata sull'input dell'arrivo degli europei che hanno colonizzato l'isola nel XVIII secolo. La scoperta inaspettata è arrivata quando un team multidisciplinare delle professoresse Silvia Ferrara e Sara Talamo ha datato con il metodo del radiocarbonio i manufatti, scoprendo che una delle tavolette è molto più antica, risale al XV secolo. La precisione che abbiamo ottenuto dalle datazioni delle tavolette di rongo-rongo è stata una datazione molto precisa intorno ai dieci anni. Probabilmente mette in luce un'invenzione della scrittura in un posto così remoto senza l'influenza degli europei. La scrittura sarebbe quindi un'invenzione molto più frequente nella storia umana rispetto a quanto noto. Finora si pensa sia emersa solo quattro volte e chissà quanti sistemi di scrittura sono andati perduti con la degradazione dei supporti. A salvare dall'oblio queste tavolette è stato il loro scopritore, il missionario Eugène Hérault a metà Ottocento. Chiese agli altri sacerdoti di raccogliere altre tavolette che gli indigeni usavano solo per scopi domestici. Possiamo quindi dire che si sono salvate grazie ai nostri fratelli missionari.